Sì? Sono tornati attivi a Fanno i numeri di emergenza comunali dedicati alla consegna di spese e farmaci direttamente a casa. Il servizio denominato Manteniamo il contatto era già stato predisposto nei mesi del lockdown durante la prima ondata di pandemia ed è garantito anche dalla scorsa settimana. Infatti, alla luce dell'aumento dei contagi da coronavirus, è ripresa l'attività dei servizi sociali in collaborazione con il CB Club Mattei e altre associazioni di volontariato. Obiettivo? Garantire aiuto e sostegno ai cittadini che si trovano soli in quarantena. Il servizio è un po' come quello dell'altra volta, ancora un po' in sordina in pratica. Come vedete i numeri in superpressione sono quelli dei servizi sociali, le persone che hanno necessità della spesa o di medicinale o di altro chiamano i servizi sociali e automaticamente i servizi sociali girano una mail alla funzione volontariato, in pratica dove la funzione volontariato è gestita nella mia persona e io giro in automatico le chiamate se sono speso o d'altro al CB Club Mattei Protezione Civile che provvede alla spesa. Quanto invece riguarda la parte sanitaria, le giro alla Croce Rossa dove è un po' misto, vediamo tutti e due di fare più o meno la stessa cosa secondo di qual è la più importanza. È chiaro che se si tratta di entrare in ospedale va alla Croce Rossa perché ha i dovuti di PI e all'esperienza e se si tratta piuttosto di andare in supermercato o in altre funzioni ci va il Club Mattei. Quando invece si tratta di buone spese nella massa ci vengono aiuti sia la Caritas, sia sempre la Croce Rossa, Mare Dentro, Salvamento Fano o Avis che sono le associazioni che hanno aderito in pratica in precedenza e che si sono già rese disponibili anche in questo caso. Attualmente le chiamate non sono tante però noi siamo pronti a dare il servizio.